se solo si potesse osservare la gente dentro si scoprirebbero tante cose tantissime cose che non sempre traspaiono fuori all'esterno c'è un mondo ma all'interno tantissimi altri fanno la loro apparizione chissà quante altre cose sono nascoste dietro una corteccia esterna e chissà quanti sono realmente in grado di vederle di sentirle di accorgersene vigilia di natale una gelida sera di pioggia erano quasi le undici nel mondo esistono tante cose tanti oggetti tante persone tanti sentimenti esiste il caldo esiste il freddo esiste il buio esiste la luce seduto di fronte alla scrivania la osservavo sorridevo e lei sapeva che sorridevo e sorrideva anche lei la sua camera da letto poteva sembrare scarna ma invece era molto ricca candide pareti avvolgevano i suoi sogni pochi mobili lasciavano trovarsi nel momento del bisogno con i loro angoli arrotondati raddolcivano la loro esistenza una oscura scrivania in stile da ufficio di legno con un disegno di metà anni 50 si stagliava maestosa in mezzo a quell'opprimente seducente pallore quello era il suo rifugio il suo piccolo mondo sicuro lontano dal pericoloso e sconosciuto mondo esterno il suo rifugio più vicino al suo cuore dolci capelli dorati si sparpagliavano sul cuscino il suo viso illuminato dal lampadario assumeva una radiosità simile a quella della luna mi piaceva molto i suoi bellissimi occhi azzurri si nascondevano debolmente nella penombra delle lenti scure degli occhiali occhiali che si armonizzavano perfettamente sul suo viso quasi come una naturale continuazione di esso la conoscevo da due anni ormai forse non sono mai stato una persona dolce e nemmeno lei o forse siamo sempre stati tutti e due molto speciali ma di certo eravamo e siamo tuttora molto simili la sua infanzia non le aveva concesso molto e purtroppo la sua famiglia dopo un incidente ormai più di 20 anni fa beh non possiamo dire che abbia cercato di fare il possibile per migliorare qualcosa è arrivata ai 25 anni praticamente da sola e l'ammiro per questo ma l'amore è un sentimento complicato io ascoltavo i suoi sogni la proteggevo dalle sue paure e le parlavo delle mie e per quanto di solito mi senta disagio a rendermi tenero e malleabile con lei mi riusciva benissimo come se fosse naturale comportarsi con lei così e con gli altri in qualche altro modo moses il mio gatto un magnifico persiano nero non si era mai avvicinato a nessuno persino fra me lui c'era un rapporto di amicizia molto particolare e quando portai cat a casa fu la prima volta che lo vidi avvicinarsi spontaneamente ad una persona e farsi accarezzare gli animali sono molto più intelligenti dell'uomo sicuramente e a lei era piaciuto molto accarezzare moses aveva conosciuto un sentimento nuovo un qualcosa che prima non aveva forse mai provato qualcosa che le piaceva molto anche se forse lo temeva avevo notato una cosa più di una volta a cui non avevo dato un alto valore anche se mi lasciava una strana sensazione di vuoto c'era qualcosa che mancava nel suo rifugio eppure ho sempre tralasciato come ho fatto a essere così stupido il contatto degli oggetti è molto importante il tatto e il senso con cui si prende il mondo in mano e lo si rigira di qua e di là per decidere quale parte si vuole usare distesa sul letto accarezzava l'orsacchiotto che le avevo appena regalato era la prima volta che riceveva un peluche in regalo quella strana sensazione che mancasse qualcosa nel suo rifugio ora non mi perseguitava più avevo iniziato a rendermi conto che forse ne aveva veramente bisogno quando avevo visto il suo sorriso mentre accarezzava moses o già quando lei teneva la mano sinistra ferma e moses gli passava sotto accarezzandosi da solo come fanno molti gatti ma mai moses improvvisamente lo scattolotto nero sulla scrivania mi ricordava una sorta di cellulare si mise a suonare un fischio rocco e continuo come un tono di occupato al telefono ehi quasi non si scompose premi il tasto in alto a destra quel maledetto affare sono mesi che devo farlo riparare molto meglio il mio piccolo rim piccolo era difficile da considerarsi rim il suo magnifico labrador nero come la pece passava buona parte del tempo a riposare in giardino o ad annusare per svariati minuti gli ospiti un cane che ben raramente avevo sentito abbaiare dietro alle farfalle o ai passanti ho sempre fatto spettacolo con il contenuto delle mie tasche al che trovare un cacciavite non fu difficile se voglio posso dare un'occhiatina o dietro qualche attrezzo una volta avevo visto rim e moses annusarsi a vicenda moses non aveva mai visto un cane e rim non aveva mai visto un gatto ed infatti avevano fatto amicizia quasi subito lo ripeto gli animali sono molto più intelligenti dell'uomo questo è bianco mi chiese alludendo all'orsetto ero intento ad osservare il complicato intreccio di fili e circuiti del biper ma alzai lo sguardo verso di lei sì bianco talvolta bianco fluttuante come le nuvole forse uno dei concetti più difficili di questo mondo eppure il bianco fluttuante del nuvole lo conosceva è morbido caldo e forse questo il valore del bianco moses è nero ed è caldo morbido le pareti della tua cameretta sono fredde e dure eppure sono bianche bianco e nero sono dei colori speciali e troppo difficili anche per me aveva imparato quasi tutti i colori persino il grigio delle nubi prima e durante il temporale ma ancora non ero riuscito a farle comprendere la differenza fra il bianco ed il nero ma io conoscevo la differenza fra il bianco e il nero l'ho mai saputa qualcuno conosce veramente la differenza fra il bianco e il nero finalmente mi districai nel groviglio dello scatolotto e sbottai ok ci sono riuscito per un bel po la pianterà di suonare la sveglia nei momenti meno opportuni però cerca di starci attenta e non usarlo come una pallina da far rimbalzare in terra lei sbottò in una risata soffocata e io richiudendo quella menico lo continuai ore tardi sarebbe ora di andare a dormire forse bianco e nero non hanno a che vedere con calore morbidezza si alzò leggermente sulla schiena si decisamente ho sonno si interruppe sbadigliando pigramente comunque domani possiamo stare anche un po di più a letto quindi se voi possiamo anche continuare a parlare o fare qualcos'altro anzi cosa è deciso per capodanno ma è stata una giornata pesante per cui preferisco trascinarmi a casa e concludere questa giornata trascorsa correndo a destra e a manca mi avvicinai a letto per salutarle lei alzando l'orsetto disse sì ok ma lui dove posso lasciarlo sul comodino una volta mi disse di aver paura del buio tornato a casa avevo trascorso almeno due ore piangendo perché non lo tieni ti farà compagnia abbiamo una passione in comune la musica di oldfield che riesce a farla sognare persino se si trova in mezzo alla strada in una stazione della metropolitana nella confusione del mercato mise gli occhiali sul comodino poi con un'espressione serafica si spostò più indietro verso le coperte cingendo l'orsetto col braccio destro mi ispirava una gran tenerezza in quel momento le presi la mano sinistra mi avvicinai baciandola delicatamente sulle labbra ogni tanto specie nei primi tempi che ci conoscevamo mi aveva stupito appena entravo in casa mi salutava prima ancora che potesse aprire bocca e se ero con un amico mi chiedeva subito chi c'è con te avevano cercato di insegnarle il linguaggio della danza ma non c'erano riusciti in compenso io ero riuscito a farle capire il linguaggio della musica aveva imparato la danza o piuttosto il mimo o una specie di via di mezzo aveva dato una sua interpretazione al senso della musica forse a qualcuno non piaceva poteva sembrare quasi ridicolo ma a me piaceva molto e anche a lei soprattutto a lei una cosa in particolare mi legava intensamente a lei mi faceva sognare ma non nel senso comune del sogno del susseguirsi di immagini suoni no non era la sensazione del sogno era più il sentimento del sogno mi sentivo un sognatore non so come spiegarlo una sensazione magnifica ma allo stesso tempo violenta come la spinta che ti attacca al sedile quando l'aereo decolla il bianco ed il nero non sono sicuro di aver capito esattamente come lei si sentisse quando stava con me ma ho notato che era quasi sempre in grado di capire i miei sentimenti il mio stato d'animo mentre andavo verso la porta e spegnevo la luce ero preoccupato perché temevo che potesse capire quello che cercavo in tutti i modi di evitare che ho sempre cercato di evitare lo giuro ho sempre tentato di non pensarci nemmeno tutte le volte che mi veniva lontanamente in mente ripensavo a quando mi aveva detto di aver paura del buio e la mia mente si bloccava di colpo come un sasso che cade nel catrame ma quella volta non mi riuscì di rascondere le mie preoccupazioni e lei subito sbottò cosa succede perché sei così teso mi avvicinai al letto e cercando quasi disperatamente di mascherare la mia preoccupazione osservai niente stavo ripensando al bianco e dal nero è un concetto molto difficile da capire ma lei mi interruppe stese il braccio in avanti e io subito mi fece afferrare la mano che strinse fermamente e si alzò sulla schiena io ho capito invece e da molto tempo ho capito anche che non volevi dirmelo chiaramente ma stai tranquillo perché è naturale no io non volevo che lei continuò imperterrita praticamente senza ascoltarmi il bianco è la compagnia che vedi intorno a te mentre il nero è la mia profonda solitudine la sola cosa che dopo l'incidente vedo intorno a me la solitudine è il buio di cui ho paura anche in questo momento stava piangendo e anche io la abbracciai forte la amavo la amo per l'incidente vedo intorno a me la solitudine è il per l'incidente vedo intorno a me la solitudine è il per l'incidente vedo intorno a me la solitudine è il per l'incidente vedo intorno a me la solitudine è il vedo intorno a me la solitudine è il